Ciao a tutti, sono Calchi e da piccolo volevo essere lui. Per il suo spirito di avventura l'ho sempre amato, ma negli anni Paperone, anche grazie ai diversi sceneggiatori, ha assunto diverse caratteristiche. Quindi torniamo alla base. Come sarebbe vivere un giorno da Paperone, uno qualsiasi, al deposito? Ho deciso di provarci chiamando qualcuno per documentare il tutto. Spero solo non sia troppo sgorbutico. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Prego, scusi il tempo ma sa qualche serratore per i bassotti. Prego, prego. Ah, mi scusi, le ho interrotto la volazione. No, no, sto solo prendendo il mio tè. Ma com'è? È al solito. Ma che schifo, l'acqua calda. Paperone? 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 Sto cercando di guardare la televisione, però... Abbiamo fatto rumor, l'hanno spento. Dovrò usare il metodo più faticoso. È un po' che c'è in televisione. Proprio l'età. Di solito queste cose le fa Battista, ma... È in ferie. Io ho concesso le ferie del secolo scorso al retrale. Però, eh? Va, va. Va che bel lavoro. Altro che paperino. Adesso, facendo di casa, raccoliamo il secchio che uso per acqua piovane e lacrime. Però è un po' che non piove, quindi purtroppo è vuoto. Se vuoi bene, 10 centesimi al bicchiere. L'ho trovato oggi al parco. E di quant'è? Di quant'è? Aprile 2018. Scusa, cosa ti serve? Guarda che il futuro si costriscia al passato. Dio. Che è successo? Maledetti vampiri. Supportami tu. Tu, mia cara, che non mi hai mai abbandonato. Ma questa è la famosa numero uno. Con il classico spray all'aglio. Si sa mai che ha meglio cose varie. E senta... Posso toccarla? No. No, qui no, mi devo fare il mio bagnetto. Sono proprio curioso di vedere come si fa il pagnonello monete. Gioccherello, gioccherello, non è il pistello. Che ci fai qua? Scusi, non volevo, ma... Ero solo curioso di vedere come sono, mi dispiace! Bene, il video è finito, ma se avete suggerimenti ne vorrei fare un altro, sempre sulla vita di Paperone. Non credo di aver imparato qualcosa se non che mi piace lanciare monetine al mio amico. Sì, decisamente sì. Ma... Non dovremmo comprare un costume da Paperone? No, dobbiamo risparmiare! ... Tiroso! Oh, for... Finta questa fila! Mi scusi, non volevo! ... ... Grazie.